Mister, le chiedo un commento sulla partita? È una partita complicata, difficile. Oggi sono entrato nello spogliatoio e alla squadra ho chiesto solamente tre punti perché ci mancavano dopo la sconfitta della scorsa domenica e i ragazzi oggi abbiamo strappato all'ultimo veramente col cuore. Il gioco che abbiamo proposto, che abbiamo fatto, le occasioni da gol non sono bastate e alla fine abbiamo vinto veramente col cuore grazie a un gol di Lerini che non molla mai. E' un leone, c'è sempre. Oggi è risolto a lui, sono veramente contento per lui e per la squadra perché ci voleva veramente. Faccio la domanda che ho fatto anche all'altro mister. Dovrebbe uscire un nuovo DPCM tra poco. Cosa ne pensa se dovessero fermare di nuovo il campionato? Mi spiace, mi spiace perché sembra veramente che fare sport non si può e tutto sia colpa dello sport e se succede tutto questo nel mondo. Mi dispiace, sport all'aria aperta, mi spiace solamente perché si fermano dei ragazzi, attività giovanile, prime squadre che per noi è veramente uno sfogo importante e se lo dovessero veramente fermare, dovesse passare questo DPCM, siamo veramente dispiaciuti tutti.